Per sbarcare il Lunario, un disoccupato di 30 anni di forno canavese ha trasformato la sua casa in un laboratorio serra di marijuana. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Rivara, con l'ausilio di Jackie, un cane antidroga, hanno perquisito la casa del ragazzo e hanno sequestrato 10 chili tra infiorescenze e fogli di marijuana. 97 piante di marijuana coltevate all'interno di una serra areata e riscaldata, ricavate nell'appartamento. In una stanza segreta, vario materiale per il confezionamento e la produzione. La marijuana la spassa per tutta la casa ed è stato Jackie individuare la serra in una stanza segreta dell'appartamento. Il forte d'ore proveniente da quella casa e il continuo vivavai di persone, in qualsiasi ora del giorno e della notte, non era passato inosservato ai concittadini e anche ai carabinieri che ieri mattina hanno perquisito la casa. L'uomo è stato arrestato. L'uomo è stato arrestato. C'è sapato inscriuto. Grazie a tutti.